Ah bene, da quanto tempo che continuo a parlare del metagame di Pokémon Diamante e Padre Platino, ecco qui la top 5 di 5 Pokémon preferiti di Sinnoh! Cominciamo subito! Alla quinta posizione troviamo Cresselia, ho sempre avuto un fetish per questo Pokémon, penso proprio che sia uno dei Pokémon più interessanti che ci siano nel gioco, penso anche che sia uno dei Pokémon disegnati meglio che ci sia nel gioco e penso proprio che sia uno di quei Pokémon che ti dia più soddisfazione avere allenato bene, magari anche Shiny e Splendid e, diciamo, Yvesati e Devessati bene per un metagame. Quinta posizione per Cresselia. Alla quarta posizione troviamo Rage Gigas, un altro leggendario. Un altro leggendario molto e molto e molto epico che ho adorato soprattutto perché lo trovavi nel Tempio di Nevepoli quando portavi tutti tra i Regi e porca puttana cos'è questa bestia abnorme, gigantesca, mostruosa? No, semplicemente Rage Gigas a livello 70 pronto a farti il culo, stai tranquillo, non è niente di preoccupante. Ah, quindi quarta posizione per lui. Alla terza posizione invece troviamo Dark Ray. Come avevo detto, adoro Cresselia per la feuda con Dark Ray e adoro Dark Ray per la feuda contro Cresselia. Penso che Dark Ray sia uno di poco più inquietanti e paurosi che siano mai stati creati nei giochi e soprattutto quello che ti lascia ancora più mindfuck possibili. Io l'ho adorato per questo, continuerò ad adorarlo e non vedo l'ora di vederlo in un dannatissimo evento qui in Europa dato che noi non riusciamo mai ad avere un Dark Ray decente però abbiamo i vivi loncarini e pucciosi. Diciamoci a tutta però, basta! Seconda posizione troviamo uno di Pokémon che ha una delle mega evoluzioni più belle di tutte ovvero Lucario. Lucario è un bellissimo Pokémon di tipo lotta e anche soprattutto di tipo acciaio. È molto debole al tipo fuoco, per carità però secondo me ne vale la pena averlo in squadra vale la pena soprattutto anche avere una sua mega evoluzione. Non posso dirci nulla contro, anzi per carità è veramente forte e veramente bello quindi secondo me è un Pokémon che ha tutti i requisiti per essere in terza posizione in questa top 5. Scusate, in seconda posizione in questa top 5. E al primo posto, ovviamente, ma proprio ovviamente chi è che possiamo trovare? Porigon Z. Porigon Z essendo l'evoluzione finale, lo stadio finale di uno dei miei Pokémon preferiti come non metterlo in una top 5 dei 5 Pokémon preferiti dove è lui che domina tutta la regione è lui il più potente mi spiace per tutti coloro che pensano diversamente ma è lui la potenza sovrumana nessun altro mi spiace nessun altro no, a parte di scherzi Porigon Z è veramente un Pokémon forte se utilizzato bene e con le giuste statistiche non si può dire niente chi è bravo nel metagame lo sa anche bene quindi ragazzi questa è la mia top 5 dei 5 Pokémon preferiti di Sinno noi ci rivediamo domani con la top 5 riguardata a quelli di Unima dopodiché il 25 sarò a casa e vi porterò a quella di Kalos quindi ragazzi se vi è piaciuta mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione noi ci vediamo nel prossimo episodio un saluto da te e ciao ciao bellissimi grazie